Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi giocheremo a Pokémon Spada Vi farò vedere il mio Pokédex come è attualmente Allora, dobbiamo fare per prima la mossa di Dundle perché è quella importantissima Zoom Ok bene, dopo averlo fatto Andiamo su Pokédex Ok E vi faccio vedere il mio Pokédex Allora, cominciamo dov'è il primo Pokémon Dov'è? Non lo trovo Eccolo Allora Abbiamo Grookey Twacky Rillaboom Scorbanni Raboot Cinderace Sobble Drizzle Inteleon Bleepbug Dotler Orbitol Caterpie Metapod Metapod Butterfree Grubbin Carriabag Vikavolt Utut Noctowl Rochid Rochidi Rochidi Corvisquir Corviknight Scowet Grident Pidove Pidove Tranquil Lajepard 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 Roselia 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 Wingul Pelipper Joltic Galvantula Electric Wulpix Wulpix Ninetales Growlite Arcanine Vanillite Piloswine Mammuswine Delibird Delibird Snorunt Glalie Froslas Baltoi Claydol Mudbray Mudsdale Dwebel Crustle Golet Munna Stuful Bewear Snover Abomasnow Crabby Kingler Whooper Quagsire Corpish Ninkada Ninjask Tirog Hitmonlee Hitmonchan Hitmontop Puncham Pangoro Clink Clang Clink-clang Kombi Bronzor Bronzong Kirlia Gardewire Gallade Driflun Drifblim Gossiflur Gossiflur Eldigos Kerubi Stanky Skuntank Timpol Palpitod Seismitod Daskal Dusclops Dasknoir Machop Machop Machoke Machamp Ghastly Haunter Gengar Che poi c'è la versione Dinamax Magikarp Geridos Goldin Seaking Seaking Ramoride Ramoride Octillery Sheldor Cloister Milotic Basculin Trabish Garbodur e la forma Dinamax Sizzlipede Sizzlipede Centiscorce e anche qui forma Dinamax Rolicoli Carcol Qualosal e la versione Dinamax Diglett Dugtrio Drillbur Excadrill Roggenrola Boldor Gigalith Timbur Gurdur Conkeldur Vubat Svubat Noibat Noivern Onix Stilix Arrokuda Barraschiuda Miao Persever Care Milchery Alcremi Cutifly Ferro Seed Ferro Thorn Pumpkaboo Pikachu Pikachu con anche la forma del cappella che è troppo bello il cappello c'è di Ash Espion Espur Swirlix Slurpuff Sprizzi Aromatisse Dupider Wabuffet Farfetch Sirfetch Lanturn Croagant Toxicrock Scraggy Scraggy Scrafty Stanfisk Shackle Barbocci Wishcash Shellos Gastrodon Wimpod Golisopod Bynacle Barbaracle Impidimp Morgrem Grimsnarle Atenna Atrem Attirene Salandit Salazzol Pawniard B-Sharp Tro Troll Sauc Coffing Weezing Sudovoodoo Clefairy Clefable Togetic Togekis Snorlax Snorlax e la sua forma Dinamax Raion Raidon Raiperior Gotita Gotorita Solosis Duosion Carrablast Escavalier Cubciu Rufflet Breviary Vullabi Scorupi Drepion Litwick Incai Malamar Snisel Weawil Sableye Mawil Maractus Sigilif Lucario My preferite Perché Mi piace tanto Lucario Torquall Cufant Cooperaia E la sua Dinamax Frillish Gellicent Merani Toxapex Cramorant Toxel Toxtricity Toxtricity Silicobra No niente Sandaconda Hippopotas E la Versione Femmina Hippoudon Durant Hetmor Helioptail Heliolisc Auluccia Trapinch Flygon Axorus Yamax Cofagrigus Dau Blade Aegislash Ponita Rapidash Sinistri Poltegeist Poltegeist Una cosa Cos'è che cambia? Indidi Trevenant Shinotic Passimian Morpeco Falinks Turtonator Togenemaru Togenemaru Globopus Grapploct Pinkurchin Mantic Mantin Wildmare Lapras Solrock Darumaka Darmanitan Stongiuner Stongiuner Duraludon Arctozolt Dracovish Cermander Sarmilion Charizard e la forma Dinamax Tipo Zero Sligu Gudra Akamo Dripi Dragapult Zacian e la forma Guerriero cioè con lo scudo Zamazenta però non ce l'ho Eternatus e una forma che mamma mia mi fa paura e bom Vabbè spero che il video vi sia piaciuto e lasciate like e iscrivetevi al canale che potrebbe aiutare tanto e noi ci vediamo Ciao